È facile dire perché ho scelto, perché al Benevento sono tre anni che mi vuole e che mi voleva, per cui ho già probabilmente tardato un po' troppo ad arrivarci, per cui già avevo questo motivo. Ma guarda, ci sono penso due, al di là dell'inseguimento che il direttore ha avuto nei miei confronti, veramente la stima che mi ha fatto sempre sentire quando non conoscevo il Presidente e mi rapportavo soprattutto con Pasquale, era la totale fiducia in me, nel mio staff, anche prima di conoscermi. È stato che dopo 20 giorni di ritiro a Pinzolo mi è successa una cosa che nella mia carriera non mi era mai successa, quella che un Presidente ringraziasse me e i miei collaboratori per come stavamo lavorando. Questo non si trova da nessuna parte, ve lo assicuro, perché era 20 giorni che ci conoscevamo, ci ha fatto sentire importanti per come lavoravamo tutti i giorni, probabilmente per la passione che ci mettavamo. Lui ci conosceva meno, chiaramente, di Pasquale. Lì, nel ritiro di Pinzolo, è nata questa cosa, perché questo rinnovo, che era automatico in caso di Serie A, è stato fatto, nel caso potremmo restare in Serie B, perché ancora niente è stato fatto, è stato fatto a ottobre, novembre, quando eravamo, non so neanche se eravamo in lotta per il primo posto. E lì è molto significativo. Qua mi diverto, mi sento importante, sono felice, sono molto felice della crescita dei miei giocatori. Li vedo ben indirizzati sulla strada che speravo potessero seguire. Questo mi riempie d'orgoglio quando partita. La squadra è quella più importante delle tre. In questo momento penso solo a questa, siamo bene tutti, a parte Barba e due giorni che ha la febbre, speriamo di recuperarlo. Giocheranno i migliori, quelli che penso che stiano meglio domani. Affrontiamo una squadra che viene da 13 risultati utili, noi ne veniamo da 16, per cui sarà una bella partita. Lo Spezia ha una rosa importante come la nostra. È chiaro che trovarsi a 19 punti più di loro probabilmente fa specie, ma dobbiamo cercare di chiudere i conti.